Sarebbe una visione davvero ingenua, infantile e superficiale quella che ritenesse che il potere silenzia il dissenso e ostracizza le visioni non allineate e non conformi con il suo ordine sempre e solo mediante l'estetica dei supplizi, come potremmo chiamarla con Michel Foucault, ossia tramite le forme più plateali della devitalizzazione repressiva delle figure del dissenso. Il Novecento ci ha offerto platealmente un teatro dell'orrore di silenziamento coatto del dissenso, da Auschwitz ai Gulag, per menzionare solo due dei molteplici esempi che hanno popolato un secolo detto breve, ma senz'altro più di ogni altro denso di sciagure e colorato più di ogni altro di lacrime e sangue. Eppure vi è un altro metodo, forse anche più efficace perché meno direttamente percepibile, che rende fecondo per il potere mettere a tacere il dissenso, ostracizzarlo, demonizzarlo e, dirò di più, devitalizzarlo aprioricamente. Me ne sono in parte occupato nel mio libro Pensare altrimenti, filosofia del dissenso, del 2017. Queste modalità della messa in silenzio, della messa alla berline alla fine dello spegnimento di ogni dissenso, possono così essere teorizzate, quasi come se fossero compendiabili in un teorema generale. Il potere ottiene il suo risultato massimo non quando deve reprimere il dissenso, che così facendo appare visibile la reale essenza repressiva del potere. Al contrario, il potere ottiene il massimo risultato quando, anziché reprimere il dissenso già nato, opera affinché esso non si istituisca. Opera, cioè, devitalizzandone in partenza le sorgenti. Il potere, cioè, ottiene il massimo risultato non quando deve reprimere dissidenti già operativi, conciò attivando magari catene emulative, dissenso verso la repressione del dissenso e quindi risultando un potere pericoloso ma anche già in pericolo. Il potere ottiene il suo grado massimo di successo quando impedisce il sorgere stesso del dissenso, quando riesce a paralizzarlo in stato nascendi, quando riesce a far sì che non vi sia più bisogno di reprimere i dissidenti semplicemente in ragione del fatto che non ve ne sono più, perché sono state neutralizzate aprioricamente le condizioni stesse del sorgere di ogni moto di dissenso e di contestazione. Credo che in questa luce possa leggersi la dottrina, come è stata teorizzata, della spirale del dissenso. È una teoria sviluppata negli anni settanta del novecento da Elisabeth Noelle Neumann, che nel 1947 fondò l'istituto di demoscopia di Allensbach, che era collocato a Magonza. In sostanza, la studiosa si occupava del modus operandi dei mass media e scopriva nei suoi studi che i mezzi di comunicazione di massa, principalmente la televisione, operino in maniera persuasiva e dissuasiva andando a radicarsi nell'immaginario e finendo per manipolare le coscienze. I persuasori occulti, avrebbe detto un altro importante studioso della materia. La tesi di fondo della Noelle Neumann è che i mezzi di comunicazione di massa persuadano l'opinione pubblica indirizzandola, enfatizzando certe opinioni, riducendo al silenzio altre visioni, ovviamente quelle dissenzienti e non conformi. In sostanza, cosa avviene con la spirale del silenzio? Avviene che quando una persona singola comincia a maturare in sé un'energia critica, uno spirito di scissione, avrebbe detto Gramsci, ebbene, grazie all'opinione dominante ribadita senza tregua, tambur battente dagli organi ufficiali dell'informazione, televisione, radio e giornali, ebbene questa persona che comincia a maturare dissenso rispetto a certi temi portanti, finisca in ultimo per autocensurarsi, precipitando in quella che appunto viene chiamata la spirale del silenzio. Alla fine non esprimerà nemmeno più il proprio dissenso, cadavericamente adeguandosi all'opinione dominante, non perché la ritenga buona, ma semplicemente perché teme di essere accusata, censurata, diffamata dalla maggioranza che coltiva l'opinione dominante. Ecco quindi che in tal maniera il dissenso non deve essere represso pubblicamente, ma semplicemente grazie al pensiero dominante, che diviene sempre più palesemente pensiero unico come unico pensiero concesso, la persona dissenziente si autocensuri, blocchi in interiore omi nel proprio dissenso e non lo esprima per paura delle conseguenze che ne scaturirebbero sul piano sociale e politico. In sostanza le persone, grazie alla spirale del silenzio, finiscono per essere spinte a chiudersi in un silenzio che a sua volta fa aumentare la percezione collettiva di una diversa opinione della maggioranza. Finisce questo dispositivo per rinsaldare il silenzio di chi si crede minoranze che perciò stesso ha paura a esprimersi temendo le conseguenze che ne scaturirebbero. Ecco questa teoria che ha avuto larga parte nella comunicazione, nella scienza della comunicazione e anche nel dibattito che vi è stato sui poteri di forte persuasione legati ai mezzi della comunicazione di massa, coglie un punto essenziale che è dominante nell'odierna società del consenso di massa e della manipolazione organizzata delle opinioni e della visione generale. Capita sempre più spesso che chi coltivi visioni diverse non allineate, in ragione dell'omologazione e dell'appiattimento garantiti dagli anestesisti del consenso, dai monopolisti della parola, dai gestori delle superstrutture mediatiche, televisive e giornalistiche, finisca in ultimo per autocensurarsi. Non già perché ritenga false le proprie opinioni che ha maturato in interiore omine, ma semplicemente perché sa bene che quelle opinioni che egli crede vere si scontreranno di necessità con la opinione dominante diffusa urbi e torbi dall'ordine della propaganda ufficiale. E accade così che l'individuo precipiti in una spirale del silenzio, alla fine non esprimerà nemmeno più il proprio dissenso e quindi si adeguerà superficialmente all'opinione dominante che sempre più apparirà perciò stesso come opinione unica, come pensiero unico, dominante. E' quello che sta accadendo con tutta evidenza oggi nella società di massa dell'omologazione conformistica delle opinioni in maniera ben più radicale, possiamo dire, rispetto agli anni settante in cui la Noelle Neumann studiava la spirale del silenzio. Oggi più che mai viviamo in un tempo di spirale del silenzio in cui gli individui hanno letteralmente paura a esprimere il proprio dissenso, anche ovviamente nelle forme più pacate, socratiche, dialogiche, discorsive, in ragione del fatto che sanno che non vi sarà uno spazio di ricezione del dissenso e di dialogo aperto intorno ai temi portati. Vi sarà invece semplicemente la dura proscrizione da parte del potere che ricorrerà alla clava delle ben note e collaudate categorie della neolingua che hanno l'unico obiettivo, appunto, non già di favorire il dialogo socratico e la discussione critica dei saperi, ma al contrario di demonizzare, ostracizzare e silenziare l'interlocutore che abbia osato dissentire rispetto all'ordine dominante del discorso o anche solo problematizzarlo criticamente. La neolingua, che è ciò che porta di fatto al precipitare nella spirale del silenzio degli individui, non opera dialogicamente. Si basa infatti sulla opposta prassi della neutralizzazione a priorica di ogni dialogo, giacché chiunque aspiri a dialogare, a problematizzare, a portare punti di vista diversi, è perciò stesso etichettato con infanganti categorie della neolingua che non hanno, ripeto, l'obiettivo di favorire il dialogo, hanno al contrario l'obiettivo di paralizzarne in partenza alla nascita, subito demonizzando l'interlocutore che sarà puntualmente abbinato con altrettante categorie della neolingua a un pericoloso fascista, un pericoloso populista, un pericoloso complottista, un pericoloso omofobo e quindi non sarà oggetto di un dialogo socratico, ma sempre solo di riprovazione pubblica, di silenziamento e talvolta anche di vera e propria ostracizzazione dall'ambito della sfera pubblica. Così opera la spirale del silenzio che è la forma compiuta del silenziamento del dissenso da parte del potere. In fondo i vecchi totalitarismi rossi e neri che reprimevano il dissenso in forme esteticamente visibili, esteticamente apprezzabili, che si mostravano nella loro criminosa visibilità, il gulag e Auschwitz in primis, erano paradossalmente meno efficaci rispetto al presente perché dovevano esibire la propria violenza e al tempo stesso erano pericolosi e in pericolo perché lasciavano sorgere molto spesso moti contestativi. Assai più totalitario e pervasivo è il metodo della spirale del silenzio che porta l'individuo a una sorta di gulag mentale, a una sorta di Auschwitz cerebrale, perché l'individuo è come se avesse la propria mente già imprigionata in un campo di concentramento e non osasse perciò stesso pensare altrimenti, o meglio osasse farlo magari nella propria interiorità senza mai rendere sociale, pubblica la propria visione. In ciò sta appunto l'essenza di quella che abbiamo chiamato la spirale del silenzio.